bello a tutti i forniters benvenuti e bentrovati su leontube in questo video andiamo a vedere le pochissime novità introdotte oggi che sono calisto eccola qua nel negozio oggetti di fortnite 16 luglio dorso decorativo stregata piccone gioco sporco piccone squartatori dente di sega abbinabile alla skin squarcia onda e abbiamo con o senza maschera e con il dorso decorativo hazard marea poi abbiamo tutti questi bundle già presenti ieri the weekend il ritorno the weekend combattente versione bianca o normale con o senza giacca ma con o senza maschera poi abbiamo le mot mascherato il dorso decorativo xo il piccone ascia xo molto carino la copertura attacco xo l'emote super popolare la chitarra 6 chord xo e la chitarra tastiera xo diciamo le introduzioni per oggi sono finite qua il resto sono tutte cose già riproposte come squalo di sicurezza vando al metallica domino scetti imperador dt 5 e poi c'è il tycoon il turbo tycoon la ruota turbina il potenziamento come dal turbo attrezzatevi per il festival tracce gemma e poi tutto quello che riguarda lego fortnite e i vari pass compreso salva il mondo non disponibile per nintendo switch qui termina il negozio oggetti di oggi ragazzi un bel vi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao a tutti